Buongiorno, sono Michele Di Francesco e sono un filosofo della scienza. Normalmente mi occupo di temi legati alle neuroscienze cognitive, alla filosofia della mente, ma oggi vorrei parlarvi proprio di una questione tipica della filosofia della scienza, il rapporto tra l'impresa scientifica e la certezza e anche il ruolo che hanno gli esperti nell'ambito di questa complicata relazione. Naturalmente lo facciamo al tempo del coronavirus e quello su cui riflettiamo è anche la figura degli esperti nell'ambito della discussione pubblica sui mezzi migliori per arginare e sconfiggere questa terribile pandemia. Una questione molto interessante è che negli ultimi tempi la figura dell'esperto è stata soggetta a un'evoluzione abbastanza sorprendente. Già da molti anni, da alcuni anni, dall'epoca, diciamo, purtroppo delle fake news oppure della post-verità, del complottismo, molta diffidenza è stata diffusa nei confronti dell'esperto. Piuttosto che un dispensatore di buoni consigli veniva interpretato spesso come al servizio di poteri occulti, di multinazionali, di interessi inconfessabili, basta pensare alla vicenda dei Novavax, dei vaccini, eccetera. In generale si era perso quest'idea carismatica e c'era più che altro l'idea di una figura al servizio di elite che cercava di convincerci dell'assoluta verità delle proprie tesi con argomenti fallaci. Ecco, questa visione dell'esperto è cambiata rapidamente per un periodo, come vedremo, piuttosto breve, quando ci siamo trovati a dover fronteggiare un'emergenza così drammatica come quella del coronavirus. Allora, l'esperto è diventato la figura di riferimento, colui che avrebbe dovuto aiutare tutti noi, in particolare i decisori pubblici, a prendere le giuste decisioni per la sconfitta del virus. Quindi, di nuovo, un ritorno a una visione carismatica dell'esperto che però non ha resistito al fatto che molti di questi esperti sono stati, come è naturale, in maniera del tutto legittima, assorbiti nell'ambito del sistema della comunicazione. Sono diventati anche dei personaggi televisivi. E a poco a poco è emerso che la comunità degli esperti non era in accordo con... gli esperti non erano d'accordo su tutto tra di loro, ma anzi su molte cose importanti divergevano, talvolta erano anche impegnati in polemiche, eccetera. E quindi questa tesi delle opinioni, questa visione delle opinioni così divergenti, aveva fatto cadere e ha fatto cadere in molti la fiducia dell'esperto. Diciamo, queste opinioni divergenti facevano sì... insomma, se queste persone non sanno mettersi d'accordo che esperti sono e soprattutto a noi cosa servono. E questo a noi cosa servono è un punto molto delicato, come vedremo. Diciamo, velocemente, il tempo è proprio poco, è solo una sintesi minimale. In pochi mesi la figura dell'esperto è passato da un servo dell'elite a nume tutelare e oracolo destinato a salvarci a membro di una comunità un po' rissosa, inconcludente, insomma, su cui non si poteva contare più di tanto. Ora, quest'ultimo punto, questa disillusione recente, a mio parere, ha molte spiegazioni, ma una forse principale ed è legata a una visione proprio sbagliata della natura e dei compiti della scienza, in particolare dell'idea che il compito della scienza sia dispensare certezze, salvarci dall'incertezza e dispensarci cose su cui siamo certi. Questa visione è sbagliata, a mio parere, e comunque è chiaramente una esagerazione della realtà, perché non è compito quello della scienza e non è nei poteri della scienza di liberarci dal dubbio e dall'incertezza. Quella scienza può aiutarci a convivere con il dubbio e con l'incertezza, riducendone, quando le cose vanno bene, il perimetro e le conseguenze. E per questo obiettivo, cioè la riduzione del dubbio e dell'incertezza, l'aiuto a muoversi avendo delle opinioni più solide, anche se non certe, la scienza è probabilmente, anzi io direi senza dubbio, il nostro principale strumento conoscitivo. Quindi questa non è una relazione che vuole criticare la scienza, vuole dire quello che è davvero un'attività umana come tante, come tante dotate di una sua misura di fallibilità. La conoscenza scientifica ha dei limiti, però è di gran lunga la nostra migliore possibilità di avere conoscenza. La storia, la nascita dello sviluppo della scienza è di fatto anche la storia dello sviluppo di metodologie umane, quindi limitate, per arrivare a con la conoscenza scientifica. Metodologie che hanno, fin dal 5-600, si sono basate dall'incontro tra matematica ed esperienza, un incontro fecondo che ha prodotto l'esperimento, quindi un'interrogazione della realtà guidata da ipotesi che devono essere sottoposte a misurazione, che si devono basare sul concetto di ripetibilità appunto degli esperimenti e delle osservazioni, attenzione alle modalità di verifica o di falsificazione delle varie ipotesi o teorie, l'insistenza sulla natura probabile delle conclusioni. Oggi la scienza è molto spesso una scienza della probabilità e non appunto della certezza. E, elemento fondamentale, la creazione di una comunità scientifica che produce e applica questi standard di affidibilità. Ora, uno giustamente si dovrebbe chiedere, e possiamo chiederci, da dove nasce questa esigenza, questa attenzione per tutti questi controlli, queste regole metodologiche, queste prescrizioni, che sono anche molto lontane dall'idea del genio solitario, che concepisce la teoria giusta con un lampo della propria intuizione, la mela di Newton, ma gli esempi sono tanti. Ma è una domanda che, volessimo affrontarla nei dettagli, è molto difficile. In questa brevissima conversazione, la prima risposta da dare è che il mondo è complesso, il mondo è difficile da indagare, anche per una specie molto ingegnosa come la specie umana. Questo pone limiti alla validità assoluta dei risultati scientifici. Vorrei citare qui uno dei principali filosofi contemporanei, il professor Tim Williamson, professore di filosofia all'Università di Oxford, che si è occupato in maniera magistrale di questo tema in un articolo sullo New Statement di pochi mesi fa. Scrive Williamson, Un problema che spesso non è chiaro, scusate, il problema è che spesso non è chiaro che cosa costituisce un risultato scientifico. La scienza reale è un processo intrinsecamente più confuso, più complicato e meno lineare di quanto suggerito dallo stereotipo tradizionale, secondo cui la scoperta nasce da uno spettacolare eureka. Le evidenze, i dati di fatto, sono accumulate gradualmente e il loro significato è tipicamente più probabile che certo. I processi biologici ambientali, qui Williamson si riferiva a un dibattito sul cambiamento climatico, ma parla anche dei processi biologici, il nostro avversario, il coronavirus, ci entra in maniera evidente. I processi biologici e ambientali che tanto contano per la vita umana sono essi stessi così disordinati e complicati da non poter essere tracciati e studiati in tutti i dettagli. Ora, se le cose stanno così, come possiamo fare a indagare questi fenomeni, se sono così complessi e sfuggenti? Bene, esistono delle metodologie che possono essere riassunte in questa maniera, proseguo con l'ultima brevissima citazione. Spesso il solo nostro approccio praticabile per comprendere i processi naturali e sociali complessi è la costruzione di modelli teorici, insiemi di assunzioni fortemente semplificate, sottolineo, fortemente semplificate, nella forma di equazioni matematiche che possono essere studiate e testate confrontandole con i dati osservati. I modelli possono talvolta essere migliorati fino a raggiungere un livello molto alto di accuratezza, anche questo è un punto da sottolineare, i risultati della scienza sono veramente ammirevoli per la capacità di accuratezza che riesce a ottenere in molti casi, ma questi modelli non possono mai fare qualcosa di più che approssimarsi alla realtà esterna, eppure ci danno la possibilità di prevedere al meglio i processi naturali che caratterizzeranno il nostro futuro. Bene, a me sembra che questo qui ci sia un equilibrio tra il riconoscimento dell'importanza della centralità e dell'inevitabilità del ricorrere alla conoscenza scientifica, è il fatto che non dando certezza non c'è da preoccuparsi per il disaccordo, anzi il disaccordo è parte intrinseco della discussione scientifica. Allora, quando viene detto, gli scienziati devono darci certezza, frase che abbiamo sentito autorevolmente formulata in questi mesi, e questa frase certamente testimonia il bisogno di un lato umano comprensibile, giustificabile, di poter condividere o addirittura in certi casi delegare le proprie responsabilità di fronte a decisioni che sono alla lettera a questioni proprio di vita o di morte. Si capisce perché c'è questa domanda di certezza, ma nello stesso tempo, ripeto, è un fraintendimento della natura della scienza ed è anche un danno perché poi produce appunto questa delusione che va oltre i limiti, cioè che dovrebbe condurre allora a dire allora se non ci danno certezza, allora gli esperti non servono a niente. No, gli esperti ci danno probabilità, ci danno delle strade, ci permettono di tentare delle soluzioni. Devo anche dire che questo esito del dibattito, e vorrei finire quindi con una breve osservazione in positivo e non in negativo, non è soltanto una cosa appunto negativa. Questo è stato notato, tra l'altro da un filosofo della scienza italiana, Simone Gozzano, che quello che è avvenuto con l'enorme attenzione che è stata data alle discussioni appunto degli esperti che diventano delle stare, eccetera, hanno però permesso a molti e molti dei nostri connazionali di vedere la scienza nel suo farsi, dice Gozzano, cioè di avere una possibilità di comprendere molto meglio come funzionano certi meccanismi scientifici. Va soltanto spiegato che questo non è un difetto, è una condizione necessaria perché esistano. Questo è importante perché abbiamo una specie di pedagogia della conoscenza scientifica che ci suggerisce una cosa. Se noi vogliamo che i cittadini, che noi cittadini, possiamo esprimerci, farci un'opinione, influenzare anche con i nostri comportamenti, poi le decisioni della politica o di comunque chiunque prenda appunto decisioni che riguardano la nostra vita, eccetera, noi abbiamo bisogno di avere gli strumenti culturali. Occorre quindi fare, per quanto riguarda la cultura scientifica, l'operazione che venne fatta contro l'analfabetismo quando si discusse di suffragio universale. Si diceva che è sbagliato dare il diritto di voto a delle persone analfabete perché non possono capire abbastanza i problemi. Ecco, sarebbe proprio, la situazione ha questa, l'analogia è questa. Molte questioni scientifiche oggi sfuggono, ma perché in Italia c'è una carenza di educazione scientifica. Qui il compito delle istituzioni come le scuole, le università, i centri di ricerca, tutti gli ambiti in cui la conoscenza è centrale hanno una grande responsabilità e naturalmente deve essere anche aiutata da chi ci governa. Ci vogliono gli strumenti per diffondere sempre di più la cultura scientifica e la comprensione di che cos'è il pensiero scientifico. Occorre che la società investa in favore dello sviluppo, non solo della scienza, ma anche di una diffusa cultura scientifica, di un diffuso sapere sulla scienza stessa. Senza questi elementi, che sono troppo spesso considerati accessori, è la scienza stessa che finisce per essere in pericolo e con essa la nostra migliore guida per orientarci nel mondo naturale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona fase 3. grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.